Come nasce questa mostra? Questa mostra nasce riguardando i miei backup sul telefonino. Sapete che ormai le immagini finiscono per sparire, sono etere. Una volta c'era l'album di famiglia per cui si prendevano queste foto, si riguardavano, si ritrovavano a distanza di 50 anni. Adesso con le immagini digitali spesso succede che il telefonino si rompe, il desktop sparisce e via anche tutte le immagini. Quindi ho ossessionato da questa cosa, ogni volta facevo un backup dei miei telefonini che cambiavano nel corso degli ultimi 15 anni e di recente trovo che ci sono delle foto interessanti che valeva la pena mostrarle. Queste immagini raccontano un po' un viaggio attraverso un viaggio personale, soprattutto raccontano un quotidiano che a volte diventa anche spettacolare e lo faccio appunto col telefono. La migliore macchina fotografica è quella che hai con te in quel momento e quindi il telefono ormai ha soppiantato sia l'analogico che anche le macchie fotografiche digitali. Adesso abbiamo l'intelligenza artificiale che ci sta facendo anche cambiare il linguaggio fotografico. E questa mostra quando si arriva un po' avanti con l'età iniziamo a fare i conti col passato e iniziamo un po' a pensare più al tempo che ci rimane rispetto a quello che abbiamo ormai trascorso. E quindi volevo in qualche modo riassumere uno spartiacque della mia vita perché mi ero allontanato molto dalla fotografia. grazie all'associazione Crotografia che mi ha accolto e grazie a Nicola Corigliano che ha subito sposato quest'idea mi sto riappropriando di qualcosa che avevo perso. grazie a tutti